L'ex difensore e attuale allenatore di calcio Paolo Negro, che ha vestito le maglie di Brescia, Bologna, Siena e soprattutto Lazio, è stato ospite al Ghetano Scirea di Santa Lucia del Mela, in occasione della partita del campionato Under-19 tra il Siena, squadra che allena attualmente, il Messina. Da calciatore con la maglia bianco-celesta ha vinto uno scudetto, tre Coppa Italia, due Supercoppe Italiane, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Europea, mentre con la maglia della Nazionale ha vinto il campionato europeo Under-21 nel 1994. Intanto benvenuto in Sicilia, iniziamo dalla sua esperienza, lei ha vinto uno scudetto, è stato in Nazionale, sicuramente una carriera importante, ogni tanto si guarda indietro. Ma sì, mi guardo indietro, ma soprattutto anche per i miei ragazzi, per migliorarli magari guardando anche dei miei errori del passato, quindi facendo in modo che i miei ragazzi poi migliorino su certe situazioni. Oggi allenatore di calcio, soprattutto tra i giovani, come sta il movimento giovanile? Secondo me sta abbastanza indietro, quindi bisognerebbe lavorare molto molto di più sul settore giovanile, investire molto di più sul settore giovanile, che ritengo una risorsa fondamentale per le società e per la prima squadra. Ora noi a Siena siamo proprio all'inizio, speriamo che la società ci aiuti e ci segua anche dei nostri consigli, che magari abbiamo fatto un po' di calcio. Si è sbagliato qualche cosa negli anni e cosa si è sbagliato, sempre parlando di settore giovanile? Ma appunto l'investire poco sui settori giovanili, sulle strutture, sui campi da calcio, sono tutte situazioni dove il settore giovanile ha bisogno e bisogna intervenire. Puntualizzerei anche, forse, puntare più sui giocatori italiani. Siamo al Ghetano Scierea di Santo Lucido del Mela, un altro grande difensore come lei? Beh, lui è stato veramente un grandissimo difensore, un grandissimo giocatore, un grandissimo uomo e Ghetano Scierea nel ricordo di tutti, tutti i sportivi italiani e nonna. Nell'ultima giornata del campionato la Lazio ha battuto il Napoli al San Paolo, Sarri è una piccola rivincita per l'allenatore, lei è il Laziale. Bella soddisfazione perché andare a battere il Napoli capolista a casa loro penso che sia stata una sorpresa un po' per tutti, però Sarri è un allenatore esperto, ha saputo come impostare il meglio la partita e si è visto. Lei ha vestito la maglia nazionale, l'ultima battuta, che cosa significa vestire la maglia della nazionale italiana? Beh, credo che per un giocatore sia il massimo, no? Perché rappresenti tutta la nazione e quando ho messo quella maglia mi sentivo di tutti, quindi è stata una grandissima, grandissima esperienza. Per chiudere vuoi fare un saluto a tutti gli amici siciliani? Beh, assolutamente, io la Sicilia la adoro, ci sono stato in vacanza e penso di tornarci anche molto presto perché è una regione fantastica. Fantastica